Dopo il rifiuto a continuare il proprio impegno in Formula 1 da parte della Bridgestone, arriva oggi dal Giappone lo stop da parte della Toyota. La casa giapponese nel consiglio di amministrazione ha deciso il proprio ritiro dalla Formula 1 affermando che tale decisione è dovuta alla mancanza di risorse per garantire una squadra competitiva. Intanto per chi se ne va c'è e chi timidamente si affaccia all'ex dorato mondo della Formula 1 sono la Kumo e la Hankook, due case coreane che producono gomme già fornitori di categorie minori come la Formula 3 italiana. Dopo il no della Pirelli è infatti arrivato ieri anche il no della Michelin a rientrare nel grande circus. Nell'ultimo fine settimana di novembre l'autodromo di Monza chiuderà la stagione 2009 con il Monza Rally Show al quale parteciperanno Rossi e Gronholm. Poi l'attività ripartirà a marzo 2010 con una bella iniziativa promossa dalla Easy Team Events che ha organizzato il Fast on the Track Not on the Road Giovani, un progetto sulla sicurezza stradale per diffondere tra i giovani la cultura dell'uso di auto e moto consapevole e responsabile. Tante le personalità coinvolte direttamente dal Motosport in questo progetto che gode del patrocinio dei comuni di Milano, Monza, Pavia, San Donato Milanese e che avrà come base fissa per i suoi corsi l'autodromo nazionale di Monza.